Il tour del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri negli ospedali italiani ha toccato oggi anche il madonna del soccorso. Il vice ministro ha ringraziato i sanitari per essere stati in prima linea nonostante la carenza di personale. Un momento di ripartenza che non può prescindere dalla vaccinazione, prevista una terza dose per i più fragili. Però attenzione, quando si dice terza dose da ottobre non significa terza dose a tutti, significa che servirà una terza dose per alcune categorie di pazienti e poi progressivamente gli studi scientifici e gli scienziati ci diranno a chi farla magari per primo, vedi i soggetti anziani, vedi coloro che magari hanno fatto il vaccino per primi a gennaio e poi progressivamente capiremo anche se ci sarà un'ulteriore evoluzione dei vaccini che magari copre le attuali varianti che già sono ben coperte dagli attuali vaccini o se magari in futuro vi sarà un'ulteriore variante che necessiterà quindi un cambiamento dei richiami che dovremo fare. Nella storia dell'umanità, ha detto il Vice Ministro, non esiste una malattia oncologica che uccida così in poco tempo dalla diagnosi come il Covid e se le persone non si vaccinano gli ospedali continuano a far fatica a garantire gli altri servizi con la stessa tempistica dell'era pre-Covid. Sul far pagare le spese a chi finisce in terapia intensiva e non è vaccinato, il senatore del Movimento 5 Stelle ha spiegato che trattasi di una provocazione ma sui sanitari no vax è stato chiaro, non si può ricoprire il ruolo di medico se non si crede nella scienza. Quanto al futuro della sanità picena, Sileri ha citato i fondi PNRR per potenziare gli ospedali facendo chiaramente riferimento anche al Madonna del Soccorso. Ogni intervento, comunque ha precisato, resta in mano alla politica regionale. L'ospedale di San Benedetto è una realtà importante in una città che vede una variazione della popolazione stagionale. Tutti gli ospedali devono essere potenziati e a maggior ragione è questo ospedale. Si parla di ospedali di territorio e di comunità, alcuni ospedali sicuramente possono essere riconvertiti. Ripeto, il piano che noi abbiamo per il territorio prevede ospedali di comunità, case della comunità e questo per fare quanto più vicino alle persone, alle famiglie. Presente il direttore dell'Azur, la dottoressa Nadia Storti, il direttore generale dell'area Vasta 5, Cesare Milani, il senatore Giorgio Fede e tutti i direttori di dipartimento con cui Sileri si è soffermato prima di parlare alla stampa. Il sindaco della città di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha chiesto al governo maggiore attenzione per il nosocomio rivierasco. Il nostro ospedale è il secondo delle marche per accessi di pronto soccorso e il nostro territorio ha fattori di rischio che altri territori non hanno, ricordiamoli, autostrada, statale 16, il porto, la ferrovia, la stagione estiva, quindi un bacino d'utenza di 165 mila persone che è anche borderline perché confiniamo con il vicino Abruzzo ha bisogno di risposte immediate e di risposte cogenti per quelle che sono le nostre necessità.